Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Oka Torrent 3. La scarpa più reattiva di casa Oka, se scludiamo quelle in carbonio, è sicuramente la più leggera. Oggi ne vediamo insieme pregi difetti. Iniziamo guardando le caratteristiche di questa Oka. Troviamo una suola proprietaria Oka, per quanto riguarda il tassello è alto 4 mm. Continuando abbiamo un'intersuola ProFly ad alta densità per quanto riguarda l'amortizzazione. Sempre per quanto riguarda l'intersuola troviamo un'altezza nella parte anteriore di 18 mm e 23 mm nel tallone, quindi con un drop 5. E per quanto riguarda la tomaia questa è in singolo mesh. Peso 248 grammi nella taglia 42. Iniziamo come al solito ad analizzare questa scarpa partendo dalla suola. Come vi dicevo, suola proprietaria Oka, troviamo dei tasselli alti 4 mm che hanno una differente direzione in base se sono posti sull'avampiede o sul tallone, così da aiutarci nella frenata se sono posti sul tallone e nello spingere per fare il passo successivo quando li posti sull'avampiede. Come performa questa suola? diciamo che solo asciutto anche per quanto riguarda la roccia non ha problemi. Per quanto riguarda il fango lavora abbastanza bene. Il numero di tasselli è un pochino ampio quindi il fango non tende a liberarsi così velocemente però comunque il grip sul fango diciamo che mi è piaciuto. Per non essere una scarpa esplicitamente pensata per il fango comunque è buono. Per quanto riguarda invece il grip su roccia bagnata meglio lasciar perdere perché è davvero pessimo. Aspetto che mi fa sempre un po' storcere il naso delle Oka è che troviamo anche su questo modello un'intersuola esposto e che va a rovinarsi abbastanza velocemente. L'hanno voluto un po' camuffare facendo lo stesso colore della suola però c'è ed è la parte che davvero si sta rovinando più velocemente di queste torrent. Continuiamo arriviamo a parlare dell'intersuola. Questa è la scarpa con l'intersuola più basso di tutta la linea Oka. Per quanto riguarda poi l'ammortizzazione questa è abbastanza limitata. Troviamo una scarpa molto secca davvero molto secca. L'ammortizzazione è ridotta all'osso però questo vuol dire anche una reattività davvero eccellente. Con queste scarpe ci potete correre veramente anche a 3, 30, 4 km senza nessun problema e vi sorprenderà soprattutto quando la metterete ai piedi e ne sentirete la leggerezza. Poi vediamo questo cosa vuol dire per chi è più consigliato e per chi meno. Ma per quanto riguarda la reattività togliendo le scarpe in fibra di carbonio che però hanno il carbonio all'interno vi assicuro che ho quasi tanta reattività in una scarpa da trail è difficile trovarla. E appunto come dicevo però l'ammortizzazione è abbastanza risicata essendo poi così bassa di intersuola è anche abbastanza stabile come scarpa. Io ci ho corso anche su dei terreni un po' sconnessi e la stabilità mi è piaciuta ma di questo ne parliamo anche dopo. Continuiamo arriviamo a parlare di tutta la parte superiore iniziando dal puntale. Un puntale abbastanza duro diciamo nella media non durissimo. Se ci prendiamo dentro qualche roccia o qualche radice non abbiamo problemi. E poi mi piace la parte plastica messa nella parte anteriore della tomaia. Questo fa sì che quando noi andiamo a correre alla lunga la tomaia non vada a strapparsi in punta. Parlando di tomaia a questo punto abbiamo una nuova tomaia rivista rispetto alla versione 2 e in questo caso a singolo mesh questa la rende molto più traspirante. Vi assicuro con questa scarpa la traspirità è veramente buona e l'ho notato soprattutto bagnandola sul fango che va ad asciugarsi molto molto velocemente. La tomaia poi continua fino alla parte del tallone e appunto parlando del tallone questo è abbastanza strutturato a livello diciamo di una scarpa un pochino più classica un pochino più da ultra se vogliamo dirla così. Un tallone comunque molto molto morbido abbastanza basso un qualche millimetro più basso rispetto alla norma però in generale come dicevo la stabilità a me ha convinto anche su terreni tecnici con tante rocce tanti cambi di direzione eccetera a me è piaciuta davvero la stabilità di questa scarpa mi ha convinto molto. Sempre per quanto riguarda tutta la parte del tallone all'interno è veramente molto soffice ha una bella imbottitura anche camminando sulle traversi o mettendo il piede in punti particolarmente sconnessi non abbiamo nessun tipo di abrasione o rossore quindi anche le vesciche molto probabilmente sarà difficile che vengano fuori con questa scarpa. Continuando prima a parlare della linguetta una linguetta abbastanza classica nulla di rivoluzionario tutto tranquillo svolge bene il suo lavoro isolante dai lacci resta ferma quando corriamo e anche i lacci lavorano bene non si slegano da soli diciamo che tra linguetta e lacci nulla di eccezionale è tutto nella norma. Per quanto riguarda invece la calzata è una scarpa che calza veramente molto molto stretto complice un avampiede abbastanza stretto questa calzatura è pensata per corse veloci quindi c'è bisogno di una calzata che sia molto stretta e anche molto performante. Mio consiglio se di solito di oca magari prendete un mezzo numero in più abbondate perché veramente è una scarpa molto stretta. Infine soletta questa è estraibile tranquilla classica di tutte le oca nulla a dire funziona bene. Per che tipo di runner la consiglio? Allora secondo me questa va bene il suo runner abbastanza leggero che corre molto velocemente evitatela se camminate veramente un runner che ha comunque una buona tecnica di corsa e secondo me prendiamo come spartiacco i 5 al chilometro se in pianura andate a più di 5 al chilometro probabilmente non è la scarpa che fa per voi. Su che terreni la userei? Allora sicuramente dal meglio di sé su terreni morbidi ma anche terreni disconnessi non alta montagna quello no però diciamo che un po' ovunque la si può usare e diterei un pochino i terreni particolarmente duri perché lì essendo una scarpa molto molto secca rischiamo di sentire un po' di sollecitazioni sulle articolazioni. Arriviamo alle conclusioni per questa Oka Torrent 3. Ve la consiglio? Sì io mi ci sono trovato molto bene viene venduta anche un prezzo di 140 euro ufficiale online si trova attorno ai 120 secondo me se state cercando una scarpa per correre delle gare veloci quindi magari una 15 20 chilometri dove volete andare e trovare una bella performance soprattutto se poi non vi piace il carbonio secondo me questa è veramente un'ottima scarpa perché ha una reattività veramente eccellente un peso che vi assicuro quando la utilizzate non vi sembra di averla addosso che altro dire se vi piacciono le corse corte veloci e soprattutto a voi piace correre veloce questa Oka sicuramente vi può aiutare a vincere qualche gara. Detto ciò ragazzi io nella speranza sia stato esauramente esaurativo anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao